Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! All'inizio abbiamo due modalità, modalità classica, consigliata dagli sviluppatori, dove alcune missioni le dovremmo fare a tempo, quindi dovremmo essere veloci, la facciamo a relaxing, giusto perché ci daremo una rapida occhiata. Questa è una classica esperienza che vi offro, del tipo, voi siete seduti con me e giocate, insomma, provando, vi faccio provare questo gioco. Allora, un secondo solo che controllo se tutto è ok, iniziamo con il primo capitolo, dobbiamo creare acqua. Allora, vi faccio vedere, non ho ancora capito bene tutto, però la mappa si svolge qui. Mi ricordo anche un altro gioco che era sul Game Pass, che era basato su, era più un puzzle game, quello, più un battaglio, insomma. Ok, praticamente dobbiamo far esplodere delle zone per liberare questa zona di Marte. Il gioco ci dice subito che ci modiamo con Vazda e ingrandiamo con la rotellina del mouse. Quello che andiamo a fare ora è usare questi pattern per far esplodere qualcosa. Vedete che qua ci dicono, possiamo anche ruotarli, ma in realtà quello che dobbiamo fare è questo. Li posizioniamo nel punto giusto, dove devono esserci due montagne in diagonale, le posizioniamo e vengono fatte esplodere. Questa è la terraformazione, che a livello di partita si farà molto più in là, però ce lo fanno già fare adesso. Vedete, abbiamo creato questa sorta di canyon all'interno. Ora dobbiamo fare il terraforming, quindi dobbiamo andare a prendere questo, ruotarlo nella posizione giusta e piazzarlo qui. Vedete che poi andiamo a spianare il terreno. Ci fa fare queste cose qui, ma il gioco non è questo. Il gioco vi farà letteralmente impazzire una volta che lo si inizierà un pochino più seriamente. Ora vedete che qua abbiamo, io ho qualche problema, lo devo giocare in finestra perché se no non me lo registra, ma in realtà il gioco è tutto schermo senza problemi. Ci fa creare la base. La base viene fatta scendere e andrà alimentata ovviamente. Ora ci fanno usare Create Mineral, quindi praticamente ci fanno creare qui, ah no, non questo, ma questo, una sorta di terraformazione con la creazione chimica di elementi scavabili. Siamo più in Tetris, insomma, questo. Dobbiamo rendere i minerali più grandi ancora, quindi prendiamo questo, credo possa andare bene questo. Vediamo se è giusto. No. Vediamo se questo no. Sì, perfetto. Ok. Ed è tutto un modo, un pretesto per farci iniziare questa avventura. Ci fa costruire una fabbrica ora. Qua sotto vedete che abbiamo in Production abbiamo la Factory. La Factory la piazziamo qui e ci viene detto quanto è idonea la zona. In questo caso, sì. La costruiamo lì. In alto potete vedere tutti i dati. L'energia, l'acqua, il cibo, i metalli raffinati e il vetro. Queste sono le risorse con il relativo, per questo vi dicevo all'inizio che era turni, con il relativo introito per turno. Ora dobbiamo costruire una powerline. Quindi andiamo a costruire questa, la powerline. La creiamo qui. E vedete che andiamo a collegare la presa. La nostra base iniziale, che alla fine non è che l'astronave che atterra e diventa la nostra base, genera di per sé dell'elettricità. Ma questa elettricità non sempre può funzionare. Ora, dobbiamo usare Smooth Terraform. Non so quale sia, onestamente adesso dobbiamo usarlo qui. Penso questo. Ok, abbiamo ammorbidito il terreno e colleghiamo la base ovviamente con i tunnel, un po' alla Surviving Mars. Quindi prendiamo i tube, i tunnel e creiamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima con l'elettricità. Ora vedete che abbiamo la possibilità di far giungere le nostre persone lì. Ora, dobbiamo costruire una landing platform che è nello slot espansione e lo costruiamo magari qua dietro. In modo che venga rivigente. Ora, dobbiamo costruire delle Basic House. Quindi qui, negli Habitats, creiamo due case. Una e due che sono comunicati. Perfetto. Ora, dobbiamo procedere al prossimo turno. Vedete che questo è il primo cambio turno. Arrivano dieci coloni. Vedete che le animazioni sono molto carine. Ci portano del cibo, vedete che arrivano a terra, scaricano le persone e arrivano nel nostro insediamento che abbiamo appena costruito sul pianeta rosso. Ora, dobbiamo creare acqua. Tutto, vabbè, vi salto i dialoghi. Dobbiamo creare water. Qua abbiamo l'enciclopedia, qua abbiamo il colon in info, con tutte le info, il technology tree e così via. Poi vedremo dopo. Allora, quello che dobbiamo creare è questo. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare. Ok, l'acqua la creiamo ma anche solo da qui, ad esempio. E abbiamo creato, col terraforming, l'acqua. Ora, dobbiamo costruire una, diciamo, una pala eolica. Vedete, perché abbiamo un meno due di energia. Quindi, al momento, stiamo consumando più. Perché sono entrate in funzione delle nuove costruzioni col passaggio del turno. Quindi, dobbiamo fare le pala eoliche. Ne mettiamo due. Il trucco, vedete, ne posiziono una. E se ne posiziono un'altra, le strutture vicine ne usufruiscono, ne se ne vantaggiano. Ma in questo caso, vedete che la vicinanza con questo mi dà un più due, credo. Ok. Devo collegarla alla struttura base. Quindi, andiamo a piazzare. Vedete che adesso è tutto connesso e iniziano a produrre. Questo dietro è un bonus, perché è vicino alla... E fa più vento, probabilmente, non lo so. Comunque, abbiamo costruito tutto. Abbiamo l'energia che ora ha i 10 più 5. Quindi, abbiamo risolto i nostri problemi di alimentazione. Andiamo a guadagnare dei metalli raffinati, perché sta iniziando la nostra fabbrica a lavorare. E, tecnicamente, dovremmo aver finito la missione. Ora. Vedete che possiamo continuare in sandbox o procedere e andare con la missione. Io salverei e uscirei per farvi vedere un'altra cosa. La free play. La free play, adesso vorrei cancellarla quella, ma vabbè. Iniziamo una nuova. Possiamo scegliere un diverso scenario. Possiamo scegliere la nostra difficoltà. Metto questa. Il RNG seed è casuale. Quindi la mappa sarà di conseguenza casuale. E lo andiamo a vedere così com'è all'inizio. Abbiamo un underground passage. Un misterioso passaggio che conduce a sottoterra. Con la costa marziana e sotto i 10-50 km di profondità non puoi mai sapere esattamente dove possa condurre. Va bene. Ok. Abbiamo dei minerali lì. Silicon deposit. Abbiamo dei mineral deposit. Abbiamo del silicon surface deposit in superficie che non vanno scavati. Dovano trovare un bel posto dove metterci. Questo è un... Sono dei dettagli. Qua abbiamo altri dettagli. Direi che possiamo piassarsi in questa zona a cui credo abbiamo anche l'acqua. Premetto che adesso è tutto in mano mia. Nel senso che io non... Non so esattamente cosa fare onestamente. Quindi ci posizioniamo magari qui. Non è una gran decisione secondo me. Però ormai l'abbiamo fatto. Qua sotto vedete che abbiamo una lista di attesa. 5 turni, 3 turni, 1 turno, 1 turno. Quindi abbiamo migrazione tra 1 turno, arriveranno 10 persone, tra 1 turno arriverà un nuovo terraform che potremmo utilizzare, tra 3 turni un nuovo terraform e tra 5 un altro ancora. Quindi potremmo andare a modificare. E questo mi ricorda anche un pochino un gioco da tavolo se vogliamo. Allora iniziamo a mettere l'expansion. Adesso l'alimentazione la mettiamo dopo. Intanto mettiamo questo. Perché poi ogni luogo, ogni deserto, ogni ground, ogni fertile soil serve a qualcosa di diverso. Quindi adesso mettiamo gli habitat perché arriveranno le persone. Tra l'altro devo essere scaltro e metterle in una zona agevole. E poi generare anche dell'elettricità, credo, facendo un'eolica qui, che comunica già con tutto. Quindi credo non serve altro. E ci piastiamo già anche una fabbrica, una production, una factory qui. Così produciamo metalli. E la andiamo a collegare forti di quello che abbiamo imparato con il tutorial. Da qui, qui e qui. E poi alimentiamo anche lì. Perfetto. E creiamo anche il tunnel che in modo da far comunicare tutta la zona. Perfetto. Possiamo provare a far passare il turno. L'obiettivo è di fare 20 idroponiche. Morale ok. Ne abbiamo abbastanza l'ending plan. Perché non è everyone. Però non me lo fa fare perché non abbiamo spazio per 10 case. Non me lo fa fare perché? Perché non abbiamo questa. Dove essere connesso con le pipeline alla base. E tra l'altro non è connesso con le pipeline alla base, immagino. Quindi Nisba. Merda. Mi ha sbagliato. Vedete che mi abbiamo già sbagliato. Perché la gente non può arrivarci. Ma non è vero. Perché comunque comunica. Vabbè. Vediamo. No. Va bene. Poco male. Restart game. La rifacciamo velocemente. La mappa è diversa. Questo è ghiaccio. Sì. Fatti. Però la zona è un po' meglio di prima. È un po' meglio di prima. Quindi. La base la mettiamo qui. Sì. Mi piace di più questa zona qui. Tanto è poco male. Insomma. Allora. Adesso. Piazziamo l'eolico. Qua in fondo. Uno. E due. Qua vicino. Così. Approfittiamo. Poi costruiamo le case. Ah. Guardate. C'è anche la serra. Adesso. Poi guardiamo tutte le cose creabili. Questo e questo. E così. Fatto. Adesso. Il power line. Che comunica lì. E dovrebbe comunicare con tutti. Mentre. Facciamo. Questi sono già comunicanti. Mettiamo una factory. Come abbiamo detto. La mettiamo qua. Su questi materiali. E creiamo. Primo. La connessione. Elettrica. Al sistema. E poi. Ci colleghiamo anche. I tubi. Wrong terrain. Eh. Mannaggia. Non ce la facciamo collegarla. Ho fatto un'altra cagata. Però. Arriva un terraforming. Il prossimo turno. Quindi. Magari. Riusciamo a farla. Dopo. A nulla. Eh. Vabbè. Passiamo il turno. Non arriva nessuno. Sono finalmente d'accordo. Abbiamo un terraforming. Però. E questo è molto utile. Perché ci permette. di spianare. Un terreno. Allora. E mettere dell'acqua lì. Quindi. Ce lo giochiamo così. No. Il cacchio. Perché non riusciamo. A costruirla comunque. No. 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 perché non abbiamo solo costruito l'expansion dove poter atterrare e quindi abbiamo sbagliato noi vabbè comunque dobbiamo trovare qualcosa per fare vabbè tanto tra un turno ancora arriveranno i terraforming per poter fare quello che dobbiamo fare intanto guardiamo che qua possiamo fare le pipe per trasportare acqua i tunnel per fare passare le persone il power line questi due non so cosa siano le sbloccheremo l'energia abbiamo avremo anche i pannelli il condensatore d'acqua e la serra gli habitat che sono tanti le produzioni sono tante le espansioni pure e poi abbiamo altre cose che non possiamo vedere ancora adesso il layer dell'elettricità della superficie questo è l'acqua no è non so cosa sia plumbing layer population stessa cosa mentre go down possiamo vedere anche il sottosuolo questa è una figata fotonica si può scendere solo di uno al momento shortage questo è il riassunto di quello che abbiamo l'info della colonia con il colonia info con tutte le statistiche l'enciclopedia e il technology tree che non abbiamo perché dovremmo costruire un edificio probabilmente facciamo arrivare le 10 persone che atterrano adesso ma non possono ancora mettersi al lavoro spero arrivi breve anche un terraforming ok outpost colony level up technology tree ok l'abbiamo sbloccato adesso abbiamo già risposto alla domanda che ci stavamo facendo quindi colonia info technology tree lo vediamo qui e vedete che abbiamo un sacco di il trading non c'è ancora però abbiamo un sacco di roba dallo scouting energy conservation quindi le batterie questo mi piacerebbe molto averlo chiede tra ricerca water extraction glass production terraforming tool farming utilities underground exploration expansions quindi la costruzione sottoralea è un gioco pazzesco visto così con tutte queste cose life on mass ce ne sono veramente tantissime io prendo aspetta non lo so energy conservation research e ci mettiamo 8 turni in base alle entrate di punti di ricerca che abbiamo abbiamo 10 persone 10 lavoratori non avevo ancora bambini credo allora voglio vedere sta roba mi dà una spiegazione di cioè praticamente se io metto l'esplosivo qui wrong terrain e non me lo farò fare questo devo ancora imparare no sono montagne se io decidessi invece di scavare sta roba oh finalmente ok finalmente possiamo mandare le nostre persone e tecnicamente dovrebbe aumentare l'entrata dei materiali mandando le pipes hanno sblocato anche reinforced power line trasferisce energia dalla base ad alto voltaggio ok ok adesso finalmente si mette in produzione ok tra due turni abbiamo nuovi migranti che arrivano quindi io ci piazzerei altre casette voglio vedere anche quanto costano ci costa 4 di consumo abbiamo un più 5 quindi una casa la possiamo mettere mettiamone 2 e magari poi aumentiamo anche il l'eolico che non abbiamo perché non lo abbiamo ci servono 18 materiali ma non li abbiamo però abbiamo i pannelli solari i pannelli solari producono 3 esattamente come gli altri quindi io li metto qui mi sta bene il consumo di vetri però va bene andiamo produciamo adesso vediamo cosa cambia eh sì abbiamo più 40 di materiali ed è ottima come cosa stiamo andando che discretamente bene dobbiamo capire adesso la ricerca quanto ci vorrà a fare questa ricerca qui vediamo se l'abbiamo già sbloccata ma non credo sì abbiamo finito abbiamo ottenuto il capacitor quindi l'accumulo di energia che io piazzerò probabilmente qui che dà un più 2 ottimo molto bene e ora la ricerca può continuare allora glass production che al momento abbiamo solo un'entrata dovuta non so cosa probabilmente le consegne da terra water extraction possiamo andare a sbloccarla il prossimo turno arriva gente 10 posso limitarle ovviamente farne arrivare meno io adesso cazzarola mi ricordo quanti sì 4 case vedete che sono è bellissima sta cosa perché sono sgonfie vengono gonfiate le case allora passiamo il turno e arriviamo a 10 così abbiamo 20 persone adesso arriveranno adesso e si gonfieranno anche queste dom vedete che si sgonfiano molto bene molto molto bene abbiamo dell'altro terraforming con cui possiamo fare dei lavori veramente interessanti perché possiamo andare a distruggere delle cose o riempire addirittura io questa non mi dispiacerebbe affatto diciamo perché qua c'è uno scavo e lo scavo non mi piace però se lo scavo ci porta a coprire una zona però ci crea disagio nell'altra mannaggia potremmo coprire questa bisogna trovare la cosa giusta cosa giusta anche l'esplosione qui non è male però e qua invece uno scavo no non mi interessa dai copriamo i buchi i buchi che copriamo potrebbero essere qui in modo da espanderci verso il basso vedete che non è ancora sistemata la zona bisogna passare per gradi comunque questo empty slot ok andiamo avanti consumiamo un sacco di cibo e un sacco di acqua bisogna ma stiamo andando bene con i materiali con l'energia ancora per poco perché poi dovremo in qualche modo ottenere le cose abbiamo ottenuto anche la water extraction water pump water tank e green house allora se io facessi questo qui sarebbe già alimentato non credo potrei farlo qui qui e poi ci piazzo anche un water tank qui ok ci serve l'alimentazione quindi andiamo a prendere la power line e la terriamo giù qui no non me la connette ok è alimentata ah deve essere connessa con le pipes giustamente quindi usiamo le pipe normali e le mettiamo qua perfetto quindi le pipe mannaggia mi mancano le pipe faccio passare anche da qui dovrebbe essere connesso tutto adesso ma passiamo il turno e vediamo no non voglio nessuno should be connected with the reinforced pipe to brace ok con le pipe rinforzate quindi va bene reinforced pipe eh ma se io volessi demolire demolish power line water mannaggia devo capire come fare perché dice che devo collegarle con le reinforced pipe sto facendo un gran casino ma ok adesso va ho fatto un giro strano eh però tecnicamente adesso dovremmo avere un'entrata di acqua ok perfetto ora la ricerca non ho capito se terraforming tool interessante ma mi servirebbe fare una sera adesso per la produzione di cibo quindi la costruzione di una greenhouse qui su un terreno fertile sarebbe una gran cosa e magari risolviamo anche il problema del cibo al momento più 5 di cibo e dovrei farne un'altra allora facciamo due più zero il cibo produciamo e consumiamo dobbiamo usare però il questa opzione quale terraforming quindi dobbiamo farlo per forza quindi io demolirei questi vediamo se c'è qualcosa che possiamo no non so che terreno debba esserci una così dice proviamo ok abbiamo creato un canyon che ci isola ulteriormente ma ne faremo risolveremo le cose prossimamente e vedete che adesso diventa molto molto tattico perché stiamo perdendo una barca di energia che dobbiamo subito compensare quindi io voglio mettere un'altra eolica mi costa 18 ma abbiamo un più 40 quindi direi che un'eolica la mettiamo qui e una la mettiamo qui e teoricamente vedete che è più grande quella vicino perché gli dà più potenza passiamo il turno non possiamo ancora ospitare nessuno no non basta comunque la corrente stiamo consumando un po' di più perché abbiamo aggiunto anche le serre quindi niente dobbiamo aggiungere altre cose ancora un'altra palla eolica dovremmo fare una ricerca però non riesco più a smettere ve lo dico glass production terraform tool farm farming utilities no colcivo andiamo abbastanza bene non posso cercarla questa why ma perché non posso ancora sono bloccato vabbè si dobbiamo aumentarla aspetta ce l'ha scritto qua aumenta la popolazione e ottenrai ok ok siamo bloccati con la ricerca poco male nel senso che aspettiamo non mettiamo anche questa più uno e non basta ancora per me non basta ancora quindi ne mettiamo uno anche qui dovrebbe essere tutto connesso alla linea si perfetto abbiamo un più cinque andiamo abbastanza tranquillo dobbiamo usare questo che ci permette di riempire questi questi cosi qui vediamo se è giusto no qui ci crea un un masso ok questa è wasteland e dobbiamo trovare un modo di pulirlo sta cosa siamo al cinque al turno dieci scusate siamo in positivo tranne di cibo che siamo in pari quindi continuiamo ad avere le quantità che abbiamo ma per il resto a parte i vetri che salgono pian piano ma al momento non li usiamo molto ci va bene ragazzi questo è il gioco fatemi sapere farlanders 12,49 euro su steam è carina carina è l'idea sviluppato da una sola persona è distribuito dalla creativo fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti come al solito alla prossima e ciao ciao